Manifertari, moglie di Ramses II, prima di accedere nell'Olimpo degli Dei veniva sottoposta alla psicostasia o pesatura dell'anima, perché il suo cuore doveva essere leggero come una piuma. In caso contrario, se il cuore era troppo pesante, significava che i suoi errori superavano i suoi meriti e non avrebbe avuto il diritto di sopravvivere per l'eternità. Autore dei sottotipi Autore dei sottotipi Autore dei sottotipi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.